Intel Core Ultra 9 285K, oggi parliamo del top di gamma e se ancora non l'avete visto potete recuperare il video dell'Intel Core Ultra 7 265K che invece è uscito nella giornata di ieri rispetto a questo video. Entrambe soluzioni da Intel, entrambe con nuove schede madre di cui appunto possiamo anche parlare un pochettino in questo contenuto. Diciamo che cercherò di tenere un po' più strette le cose perché oggettivamente parlando vi ho già fatto un'analisi enorme, nel video precedente sarebbe assurdo ripeterla. Per la recensione di questo 285K ho utilizzato questa Hero, ma in realtà vi dico che alla fine rifacendo i test due volte su entrambe le schede madri, l'Ease e la Hero non ho avuto particolari differenze prestazionali, quindi di per sé i risultati vi sembreranno molto molto simili a quelli di ieri, magari c'è qualche fps quella di differenza. La Hero è la nuova Z890, se volete vi ho dedicato un unboxing, vi faccio vedere alcune delle caratteristiche sia sui social verticali che su shorts qua su YouTube che nel video dedicato agli Intel 200S. Ad ogni modo abbiamo questa Z890 Hero appunto, un 360mm che però vi dico con questa generazione è anche abbastanza esagerato come il re-win di terza generazione, questo qui magari lo utilizziamo in una build dove un pochettino si possa valorizzare di più che su una test bench insomma sia in termini S16 che prestazionali perché lo richiede assolutamente. Un altro 285K, ma questo torna indietro. E infine un altro kit di G-Skill Trident Z5 CK che sono quelle con appunto il modulo QDIM che serve ad avere il clock timer integrato. Sono due banchi da 24 e abbiamo in realtà già analizzato le prestazioni del precedente video scoprendo che alla fine della fiera non cambia niente, non cambia assolutamente niente. E la cosa è un po' triste, visto che effettivamente comunque le RAM possono dare beneficio a questa generazione, ma c'è un discorso abbastanza lungo invece da fare sul 285K. Quindi vediamo di iniziare. Il 285K è l'attuale top di gamma di questa generazione. A differenza del 265K che abbiamo visto nella giornata di ieri gode di 4 core in più con un conteggio di 8p core e di 16e core. Questa generazione non ha più l'hypertreading quindi i thread sono pari al numero di core, abbiamo un 24 24 o meglio ancora un 8 più 16 24. E infine per quanto riguarda i consumi Intel ha fatto un passo indietro con TDP e power limit più bassi. Anche qui c'è da dire una cosa in realtà. l'Intel default settings, sia sulla Z890 Hero che sulla Z890 Ace che ho in test, effettivamente utilizzano PL1 e PL2 sul 285K di 250W contro i 125 e 253 del 13900K. C'è da dire però una cosa, a differenza della generazione precedente, questi power limit vengono ampiamente rispettati con effettivamente un 265K che rimane sotto la soglia dei 250W e un 285K un po' più aggressivo. Ad ogni modo sul discorso di temperature e consumi ci arriviamo alla fine di questo video. Per quanto riguarda il 285K anche la parte di comparto grafico rimane praticamente uguale e idem la zona dell'intelligenza artificiale ovvero quella della NPU. Di per sé le prestazioni sotto questo punto di vista non variano e la GPU non fa che da supporto grafico più che altro nel contesto in cui possa servire effettivamente di sfruttare le GPU di un processore da oltre 500€ che comunque è molto molto raro, però di per sé queste cose rimangono uguali alla generazione precedente. Ora queste che state vedendo velocemente sono le test bench che ho utilizzato per realizzare questi test. Windows, driver e programmi sono tutti aggiornati all'ultima versione compatibile e stabile che si possa utilizzare ma all'interno dei grafici stessi noterete che ci sono segnate appunto tutte le versioni qualora vogliate replicare i test o semplicemente avere un paragone. Iniziamo dai test di produttività e partiamo come ieri con quelli sintetici. 3D Mark CPU ci porta un 285K che in realtà ha delle prestazioni veramente incredibili. Se ci dovessimo basare semplicemente su di questo benchmark avremmo veramente una generazione pazzesca che batte tutti gli altri, supera anche il piccolino 265K e pone l'Intel Core Ultra 9 come veramente una gran bomba per quanto riguarda il single core. Accompagna con un sentimento simile anche Cinebench 2024 dove nuovamente il 285K è capace di posizionarti nella parte alta di questa classifica andando completamente a sbaragliare la concorrenza il che lo rende un processore interessante vista le premesse per quanto riguarda l'efficienza energetica e se mi fermassi qui il video vi direbbe di comprare un 285K ma andiamo avanti e vediamo se è così. Passando all'ambito della produttività vediamo un po' di grafici. 7-Zip File Manager è il primo programma che ci riporta alla realtà dei fatti con un 285K che in termini di compressione ha prestazioni leggermente inferiori rispetto a un i7-14700K della generazione precedente ma recupera sicuramente spazio allineandosi agli i9 invece più vicini con 201 punti contro i 207-208 dei due top di gamma precedenti. Effettivamente però le prestazioni totali in compressione lo pongono leggermente sotto al 14700K. Invece in Blender questa generazione eccelle particolarmente. Finalmente qualcuno batte il 9950X e lo fa anche in maniera abbastanza consistente per quanto riguarda il primo benchmark Monster anche se poi effettivamente finisce in pari su Classroom e Junkshop invece lo vede andare sotto di ben 16 punti. Il 9950X alla fine non è un cattivo processore sulla produttività spacca veramente tanto e dopo vediamo anche un pochettino di parlare di consumi. Effettivamente diciamo che la prestazione in questo caso del 285K riscatta quella che invece è andata molto male del 265K per quanto comunque nella sua line up dei set alla fine stia molto bene e molto in alto. Come potete vedere Blender è un programma molto vario e in base a cosa renderizzate o su cosa lavorate potreste avere o meno dei benefici da un processore. Diciamo che in questo caso 9950X e 285K sono abbastanza simili. Altro render Corona Benchmark in questo caso anche qui delle prestazioni interessanti per il 285K scavalca completamente gli 9 delle generazioni precedenti che però possono consumare un po' di più e per quanto riguarda il resto alla fine si posiziona come secondo. Il 9950X per qualche motivo ancestrale è effettivamente più potente ma con distacco anche rispetto agli altri prodotti quindi di per sé molto bene molto interessante 285K comunque si è difeso molto bene. In ambito dell'intelligenza artificiale è successa una cosa particolare con Geekbench che utilizzo per adesso come programma di A perché effettivamente ha una valutazione molto completa poi ne cercherò altri ma per quanto riguarda il 285K con ONNX come pacchetto di strumenti potete vedere come effettivamente a piena precisione il 285K domini la classifica anche sopra il 9950X allineandosi abbastanza vicino per quanto riguarda l'Aff Precision ma poi perde terreno perché in quanti size precision potete vedere come effettivamente vecchie generazioni ma soprattutto AMD in particolare abbiano un vantaggio molto molto ampio con un 9900X che si distacca completamente e poi un 7800X 3D che si va a paragonare agli 9. Però effettivamente se parliamo intelligenza artificiale è impossibile non citare OpenVINO il pacchetto di strumenti che Intel ha creato per i propri programmatori e poi anche per tutti i brand che ci collaborino che effettivamente permette di ottimizzare una determinata porzione di calcoli. Ora secondo voi come si sentirà Intel nel vedere questo? Come si sentirà Intel nel vedere che il 9950X è il processore che assolutamente prende più vantaggio dal suo tool? Spero che siano orgogliosi! 29.000 punti! È letteralmente il doppio del 285K! Ma anche se prendiamo le altre versioni sì il 285K è il migliore degli altri ma c'è un distacco di un 50% netto tra il 9950X e il 285K. Ora Geekbench AI non è l'unica cosa che si possa fare nella vita con l'intelligenza artificiale ma effettivamente diciamo che è interessante vedere che OpenVINO di Intel dia beneficio all'AMD. Bravi! Questa è assolutamente a missione che la concorrenza possa fare qualcosa di buono. Indigo Renderer è un benchmark in cui in single core il 285K si posiziona benino nel senso comunque terzo della classifica non è affatto male ma come potete vedere nella zona multicore principalmente quella di supercar come tipologia di render ha un punteggio superiore anche al 9950X prendendo effettivamente il primo posto in quel caso bisognerebbe riallineare il grafico però di per sé se prendiamo questi dati ci sta probabilmente complice il fatto che abbia 24 core e che gli core di questa generazione siano particolarmente competitivi con nuove istruzioni che gli permettono effettivamente di colmarsi fino al 100 per cento del carico per poi passare ai picor dando quindi un margine prestazionale molto migliore in certi casi. Su Premiere Pro abbiamo un 9950X incredibilmente aggressivo si distacca anche dagli 9 delle generazioni precedenti che vi ricordo essere capaci di consumare anche un centinaio di watt in più a pari prestazioni prende distanza dal 14700K con i suoi 220 watt ed effettivamente il 285K arriva proprio in quella zona prestazionale potete vedere sono sette punti di differenza in Puget ma onestamente vi dico che qua per esperienza queste sono tutte esperienze valide fino al 7800X 3D semplicemente avrete dei tempi di render o comunque di gestione dei calcoli leggermente più brevi qualora vi riferiate alla CPU dove la GPU non arrivi che invece in Premiere ultimamente sta diventando veramente molto molto imperante con tantissimi task che vengono allocati sulla stessa. Ad ogni modo il 285K qui fatica un pochettino ma niente di particolare. Photoshop invece è un mondo in cui regna AMD in maniera incontrastata ed effettivamente io qui riporto come nel video precedente secondo me Windows ha qualche problema perché non è possibile vedere che il 285K restituisca dei punteggi più bassi del 265K e non parlo del mio Windows perché il mio Windows è pulito, aggiornato, testato, gli altri risultati sono sempre lineari io a distanza di sei mesi ottengo gli stessi risultati per farvi capire cioè non è la mia test bench il problema ve lo posso assicurare qui il problema è qualcosa non sta comunicando con questa nuova generazione di Intel e oltretutto AMD che spiana così completamente ce lo fa capire bene. Il 7700X riesce a prendere anche più punti del 7950X 3D perché in questo caso la 3dv cache sembra quasi danneggiare le performance essere praticamente inesistente in quella che è la performance di Photoshop con un 9950X che infine occupa la posizione superiore. Detto questo passiamo ai giochi. Cyberpunk 2077 è quel gioco che ci da un 7800X 3D che domina la classifica e un 265K che fa da cuscinetto per la caduta del 285K che va peggio di un 7700X in questo gioco. Test ripetuti 3 4 5 volte anche per questa generazione e soprattutto tutto quanto testato anche con profili extreme sbloccati con RAM più potenti dopo vi faccio vedere non cambia niente. Questi processori sono strani performano male ma ho avuto già riscontri da altri recensori prima che escano questi video ragazzi la situazione è uguale per tutti. Formula 1 2024 un altro titolo in cui effettivamente questi due intel core ultra hanno un ruolo molto fondamentale cioè quello di attutire il 7700X in quanto se cadesse effettivamente potrebbe farsi male anche se sul fondo della classifica. Assolutamente ma soprattutto per gli 9 della generazione precedente che in formula 1 sono sovra performanti in una maniera veramente consistente quindi bene molto bene devo dire particolare vederli lì in fondo nuovamente non c'è tanto da fare. Age of mythology retold è invece un gioco che dà grande risalto a questi processori che adesso dominano la classifica e usano gli altri come cuscinetti per l'impatto. 1835 punti nel benchmark ufficiale del titolo diciamo che questo gioco assomiglia un po' di più a un concetto di produttività quindi probabilmente è per quello che stanno riprendendo punti ad ogni modo 285k domina la classifica seguito soltanto dal 265k. Molto bene differenze che assolutamente non fanno differenza in gioco però è uno strategico abbastanza complesso come dinamica e quindi per sé l'ho inserito. Assassin's Creed Mirage invece ribalta nuovamente la questione per una volta vediamo il 285k riuscire a superare il 7700x di 6 fps ma ci sta comunque allineandosi alla parte bassa di questa classifica con un 7800x 3d che invece domina completamente con i suoi 236 fps. Diciamo che l'esperienza sarà comunque eccelsa sarà comunque ottima tutti riusciranno a giocare con tutti i processori però nel momento in cui devo comprare una nuova scheda madre per utilizzare questi processori vorrei che almeno si allineassero la generazione precedente o mi dessero qualche vantaggio consistente prezzo temperature consumi qualcosa insomma non che vadano peggio della generazione precedente da quella che è ora in auge per AMD che è stato un disastro. Black Mifu Kong in realtà è uno di quei giochi che dà risalto al 285k come potete vedere i risultati sono assolutamente tutti uguali nel senso sono tutti giocabilissimi 100 più fps ma il 285k raggiunge la top 3 con un risultato simile al 7950x 3d 2 fps in più per quanto riguarda il 95% 2 fps in più per quanto riguarda il 5% low ma effettivamente per il resto prestazione molto nella media ci sta assolutamente questo gioco non sfrutta più di tanto la cpu insomma come potete vedere i risultati sono abbastanza simili se andiamo a fare la media degli fps potete vedere come il 2i9 più che altro per via di formula 1 2024 se togliamo quello assolutamente cadono in basso sono molto vicini a 7800x 3d segue 14700k e solo sul fondo con 171 fps medi troviamo il nostro 285k seguito a ruota dal 265k ora quando vi ho parlato del 265k ho fatto dei test per quanto concerne le ram ed effettivamente ho messo in gioco 6000 megahertz 7200 megahertz e 8200 megahertz dall'analisi precedente abbiamo visto come 8200 megahertz e questo è stato anche confermato da altri recensori con cui mi sono confrontato non abbiano effettivamente nessun vantaggio letteralmente anzi hanno delle performance peggiori rispetto ai 7200 megahertz forse complice il fatto che la loro capacità sia diversa e che i banchi da 24 giga di ram per qualche motivo non performino come quelli da 16 o da 32 metto le mani avanti spero che qualcuno mi smentisca però di per sé nella mia esperienza questi banchi da 24 ancora non mi hanno dato niente di esaltante ho quindi ripetuto i test anche per il 285k eliminando però gli 8200 megahertz perché tanto onestamente di sprecare due tre ore a rifare i test inutilmente non mi andava ho messo però i 7200 megahertz che danno un effettivo beneficio sul 265k lo faranno anche sul 285k ecco la risposta age of mythology retold in realtà non ci dà nessun beneficio siamo nell'ordine dei quattro punti di differenza dominiamo ancora la classifica con i nuovi intel core ultra 9 o intel core ultra 7 di per sé l'unica cosa che potete notare che il 265k talloni un pochettino di più l'intel core ultra 9 ma niente di che black me fukong è un gioco in cui effettivamente c'è un beneficio incredibile di ben un fps questo titolo non ama le cpu non gliene frega niente tu gli puoi dare in passo un i9 un i3 non gliene frega niente nulla niente però almeno è andata meglio del 265k che letteralmente lì in fondo a morire molto bene cyberpunk 2077 è uno di quei giochi che invece ci dà un beneficio pazzesco grazie alle nuove ram infatti perdiamo due fps medi molto bene molto bene veramente incredibile è un'emozione costante un roller coaster sto video veramente formula 1 2024 nuovamente nessun beneficio letteralmente lo stesso risultato al all'unità cioè 197 111 due volte nemmeno riescono a battere il 265k che almeno qualche punto l'ha ripreso quei 5 fps va bene bello passando invece all'ambito della produttività indigo renderer è un programma che effettivamente non ha benefici anzi nuovamente perde qualche punto ma siamo nell'errore percentuale quindi potrebbe anche essere normale niente di che però con le nuove ram blender anch'esso non ha particolari benefici recuperiamo soltanto qualche punto nel test di classroom andando a staccarci dal 9950x ma di per sé la prestazione rimane abbastanza uguale nel senso niente di che corona è un benchmark in cui recuperiamo qualche punto come potete vedere il 265k a 7200 mhz per qualche motivo continua ad avere il boost più assurdo mai visto nella storia di questo benchmark ma di per sé il 285k gli rimane dietro va bene ma comunque il 9950x con 6000 mhz tira durissimo e andando alla media fps dei giochi potete vedere come effettivamente questa generazione abbia un segreto infatti ragazzi non comprate il 285k comprate un 265k e dateli 7200 mhz e avrete letteralmente la stessa esperienza in gioco letteralmente uguali guarda 171 122 171 122 semplicemente cambiando le ram letteralmente la differenza tra un intel core ultra 7 e un intel core ultra 9 è la ram io mi sento di essere tornato agli 11.000 sapete l'11.700k e l'11.900k che avevano esattamente le stesse performance ma lo stesso feeling e per quanto riguarda il discorso dei consumi e temperature ragazzi io non spreco neanche più tempo sì sono meglio della generazione precedente perché hanno dei power limit più contenuti hanno un modo migliore di gestirle sì certamente ma effettivamente a te interessano così tanto le temperature cioè nel senso lo so che le temperature sono un argomento interessante ma se prendiamo il contesto di amd oggettivamente parlando in produttività il 9950x ha dominato tutta la categoria è allocabile su schede madri nettamente meno costose come le b650 quelle di buona qualità lo reggono perfettamente avete una piattaforma che di per sé è almeno sicuro che faccia altre due generazioni con i 9000 x3d e i 10.000 e poi vedremo se ci saranno i 10.000 x3d a livello di feature sono praticamente uguali se proprio volete esagerare vi prendete un x8 e 70 e avete esattamente le stesse cose delle z8 e 90 qual è il beneficio ma soprattutto in termini di consumi entrambi questi processori di nuovi di intel possono arrivare a 250 watt nel contesto della produttività e lo fa anche il nostro 285 anzi può superare questi limiti in base alla tipologia di boost che andiamo a utilizzare perché effettivamente 250 250 è l'intel default settings ma effettivamente si possono utilizzare gli altri profili di potenza della scheda madre per utilizzare dei watt in più non che ci sia un beneficio effettivo perché in realtà questi test li ho fatti tutti con i profili extreme cambia niente però effettivamente nel momento in cui Arrolake di questa nuova generazione di intel fa del consumo il suo cavallo di battaglia e poi in render mi va a utilizzare 250 watt dove il 9950 x ne utilizza 200 qual è l'efficienza cioè efficienza è quando tu hai un x calcolo realizzato con una x potenza il tuo processore più efficiente quando usa meno watt per arrivare a un risultato simile ora amd mi dà un risultato migliore usando meno watt e quindi sono i risen 9000 che sono più efficienti oltretutto nel processore meno efficiente di questa generazione perché il 9950 x è l'unico con 170 watt di tdp sì hai delle buone temperature sì hai la nuova piattaforma ma sono tutte cose che anche amd e quindi da recensore devo essere onesto questo mi ha dato veramente lo stesso feeling di intel 10.000 e intel 11.000 ci hanno tolto qualcosa come esattamente in quella generazione sono tornati da 10 a 8 core in questo caso abbiamo perso l'hypertrading non che sia utile almeno per quelli che sono dati test ci hanno tolto prestazioni ci hanno dato consumi e temperature in passo come se fossero la grande rivoluzione ma non è lunar lake non lo so ragazzi io sono molto confuso continuo a dire che secondo me ci sarà un'ottimizzazione da parte di microsoft per quanto riguarda questi processori per allinearsi con l'architettura perché a me non torna come per esempio in giochi cpu intensive come cyberpunk questi processori facciano bottleneck a una 4080 super nel 2024 capisco l'efficienza però il bottleneck io non lo posso accettare su una 4080 super quando la tua concorrenza con processori anche meno potenti e costosi riesce effettivamente a far girare quella scheda al 90 100 per cento come dovrebbe andare non ci siamo decisamente insipida come generazione rimane da vedere se magari non mi smentiscano facendo un sacco di aggiornamenti bios magici di windows un po come è successo con ryzen 9000 ad ogni modo fatemi sapere la vostra opinione noi ci vediamo al prossimo video voi stati su more than tech sausa